Tre donne sole che vivono in un paesino del New England desiderano avere accanto un uomo che dia un senso alla loro vita, ed ecco arrivare in paese un ricco sconosciuto con uno strano servitore, è un demone giunto sulla terra per corrompere le tre donne ed avere un figlio da loro. Ma le tre donne si rendono conto ben presto della natura demoniaca dell'uomo e dopo una strenua lotta, servendosi delle arti magiche che hanno a loro volta appreso, lo costringono a sparire per sempre.